la cernia è un pesce fantastico è anche un pesce carnivoro infatti mangia i crostacei e i pesciolini più piccoli per sapere se fresca controllate le branche che devono essere sempre di un colore arancione acceso rosso acceso controllate l'occhio che deve essere vispo e aperto e anche lucido e non deve avere nessun odore sgradevole per la pulizia utilizziamo delle forbici e un coltellino per le squame elimina le squame partendo dalla coda fino alla testa effettua un'incisione nello stomaco per togliere l'interiore sciacqua ora all'interno del pesce con l'acqua corrente per conservarlo potete lasciarlo in frigorifero fino ad un massimo di due giorni o congelarlo il prima possibile